In Steam, tutta la scienza, l'innovazione e le performance di Upgrade uniti in una rivoluzionaria piastra a vapore. Uno strumento professionale e performante che sfrutta i benefici del vapore. Tutela la salute del capello, produce risultati eccezionali nello styling, garantisce una licciatura a regola d'arte, anche con quelli più difficili da trattare. Steam è liscio perfetto sulla capigliatura grossa, oppure particolarmente riccia e ribelle, con la quale solo la temperatura non basta per ottenere un finish impeccabile. Ottime performance anche sulle punte danneggiate, il vapore chiude le fibre capillari e idrata il capello. Il risultato? Capelli lisci, setosi e brillanti più a lungo. La piastra Steam è dotata di piattini in titanio rivestiti in ceramica tormalina, 3x10 cm. In quello superiore sono posizionati i fori di uscita del vapore. Steam ha un sistema di gestione della temperatura avanzata. Con il termostato a ghiera potete impostare quella ideale scegliendo tra low, medium e high. Ci vogliono solo 45 secondi per raggiungere la temperatura massima di 230 gradi, che è mantenuta costante grazie alla resistenza in ceramica MCH per tutto lo styling. Sopra la piastra si trova il serbatoio per inserire l'acqua distillata. Steam è venduta con due serbatoi rimovibili. I capelli, se stirati regolarmente con piastre aggressive, tendono a disidratarsi, diventando crespi. Ecco perché Steam vale di più. Grazie al vapore salda le cuticole del capello, lo mantiene idratato, lo rende perfettamente liscio, morbido e sano. E la piega dura molto più a lungo. Steam, la forza del vapore, la bellezza dei capelli.